Musica Allora sempre dal festival di Taurmina sulla splendida terrazza del Timeo con Xenia Rappoport che è una premiata, questa sera prenderà il Leone d'Oro della provincia ma soprattutto era qui con un film, perché c'è il focus sulla Russia, un film molto interessante che io non so pronunciare, come si chiama? Yuri's Day? Sì, Il giorno di Yuri Vogliamo raccontarlo brevissimamente? La storia del film Breve, 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 insomma è difficile di raccontarlo breve però secondo me è un film che dovrebbe interessare molto gli italiani perché la storia si svolge sotto la neve proprio a una piccola città russa che racconta molto della Russia e della vita della gente semplice, della gente normale è la storia di una diva dell'opera che viene in una piccola città prima di lasciare il suo paese con il suo figlio e perde il suo figlio per sempre e poi rimane là, cambia tutta la sua vita e rimane là per me è stato un lavoro molto importante, molto interessante il regista Kirill Serebrenikov che lo conoscete grazie al Festival di Roma dove lui ha qualche anno fa vinto il premio principale Senta, ma le piace Taurumina e i nostri spettatori la ricordano anche per La Sconosciuta? Eh sì, la Taurumina mi dispiace, sono qua per la prima volta e l'ho visto, lo vedo adesso ecco, sì, da qua è splendido e purtroppo non avrò neanche il tempo per vederla però vedendo dal finestrino della macchina sono sicura che tornerò un giorno per vederla con calma e invece di… e me la ricordo anche io è una… è stato difficile però è stato molto piacevole e ho un ricordo bellissimo anche del lavoro con Giuseppe Tornatore, il vostro grande cineasta sono veramente felice che mi è capitata questa fortuna di lavorare con lui Grazie, Zegna e soprattutto tanti complimenti per il Leone d'Oro Grazie Grazie Grazie